L'ha andato a comprare un panzerotto e lo volevo salutare E non potevo fare a me... Edford, come stai? Virzi, quanta vecchiaia! Niente, io... Sei contenta che sono... C***o, già la prima cazzata Si è ficcato il tacco di Elmi 12.000 euro di scarpa stanno Aspetta, aspetta Una prima figura di m***a Io sono contentissimo di averti dato la possibilità di lavorare con me Secondo me... Stala traducete Adurrei delle altre motivazioni al premio E' un premio all'amore Un amore autentico per la nostra terra Perché io ci pensavo Abbiamo altre star di Hollywood in Italia Però se ci riflettiamo Abbiamo George Clooney sul lago di Como Leonardo Di Caprio attico a Verona Elemire Tricasse Grazie mille! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti